Continuano anche per il mese di febbraio la biblioteca della regione di Via Confienza 14 le iniziative per approfondire la storia patria alla vigilia del 150esimo dell'Unità d'Italia tema del mese Torino Capitale il 2 febbraio si è parlato di Torino Capitale dell'Industria Un tempo il Piemonte nel Settecento era la capitale della seta adesso più nessuno sa che cosa è l'industria serica in Piemonte se uno pensa ancora in Italia all'industria serica forse la colloca nel Comasco, nella Lombardia eppure pensate che il Piemonte è stato in grado di governare il risorgimento proprio perché nel secolo precedente era stato ricco per l'industria serica nessuno si mette a piangere perché l'industria serica è scomparsa dal Piemonte e allora forse bisogna guardare in avanti senza doverci letteralmente incatenare a un passato che inevitabilmente deve cambiare